Perciò diciamo che una persona che magari, abbiamo detto che inizialmente non ha, per una persona normale, chiaramente normopatologica, normopatica si dice, un soggetto sano, praticamente non dovrebbe dare problemi. Però se una persona invece è appassionata appunto della danza del ventre, man mano che pratica la danza del ventre, anche per una cosa, per un fattore esterno chiaramente, estraneo appunto a questa attività e magari subentra un problema di scala, di produzione o estrusione eccetera eccetera. Praticamente a questo punto vi sembra di capire che può essere controindicato in alcuni casi? Sì, in alcuni casi sì, nel senso che deve essere fatto uno studio appunto dal fisiatra competente, vedere un po' quali sono i movimenti particolari che possono scatenare questo tipo di dolore, dovuto appunto allo spostamento dei dischi o comunque alcune contratture antagiche, riflesse muscolari, eventualmente si può cercare di evitare alcuni movimenti specifici oppure in altri casi si è costritti purtroppo, quando si ha una presenza di ernie che sono abbastanza importanti, a diciamo abbandonare questo tipo di attività sportiva. Però nel soggetto sano appunto questo non è assolutamente controindicato, nel senso che è chiaro che da una sollegezione che può essere rispetto a altre attività sportive un pochino più vivace, dal momento in cui si ha una lesione vera e propria del disco intervertebrale è importante e in questo caso converrebbe appunto a mantenere un equilibrio appunto tra il disco stesso e le strutture nervose. Lei consiglierebbe di smettere in questo caso? Beh comunque si può, non smettere addirittura, ma comunque si può ridurre diciamo il movimento stesso, quindi continuare a praticare la possibilità di attività sportiva però senza esasperare il movimento della colonna lombosacrale. E ritorniamo ancora a parlare col dottor Finucci, perché io vorrei adesso a questo punto lasciare a parte il discorso sportivo, il discorso posturale abbiamo parlato occidentemente però è inutile addentrarci appunto nei meantri appunto della ginnastica posturale perché non è che possiamo spiegare delle tecniche appunto quella ci si rivolge a un fisioterapista esperto appunto, no, parlavo come fisioterapista per, cioè fisiatra chiaramente manda al fisioterapista e il fisioterapista poi giustamente ha una sua competenza specifica per poter seguire appunto il paziente che bisogna dire che bisogna nella ginnastica posturale bisogna essere veramente pazienti poi penso perché se uno ha un problema. E invece vorrei a questo punto parlare un attimo invece di un'altra cosa, di quelle che sono le abitudini, però mi sembra che abbiamo uno spot pubblicitario, noi ascoltiamo lo spot, appunto la linea va di nuovo alla regia Max Giustante e poi torniamo ancora col dottor Finucci, ricordiamo ancora fisiatra verso il centro paraplegici di Ostia Lido e per poter appunto parlare appunto di quelle che sono le abitudini, ecco restate con noi perché questo è molto importante, quello che in qualche modo può essere controproducente per l'insorgere oppure anche per il peggioramento, appunto di problemi alla colonna vertebrale e quello che invece può essere utile sicuramente per alleviare quelli che sono i problemi. Restate con noi, per questo è la parte più importante perché nella vostra attività quotidiana sicuramente avete sempre a che fare con posture sbagliate e magari con una piccola correzione si possono evitare problemi che magari fanno perdere sicuramente moltissimo tempo e soprattutto danno veramente tanti fastidi. Ritorniamo lì nella regia, ritorniamo subito dopo. State ascoltando Radio Roma. E nuovamente eccoci.